a a lombardo non lo chiamo più il presidente e ora come chiama l'amico la maestà mi ha scioccato ma è fatto un po' ma l'hai ubriacato? ho sentito ti devo vedere perchè ho sentito la sua maestà e se qualcuno che sentisci Giuseppe io ho capito scavagnino la sua maestà nel senso e quando lo hanno incoronato io gli dico si sembra un schifo ma non male che questa cosa mi dice a me tu a laurea non ce la dire perchè ci ho accunti io gli dico ma io che dove fai sua maestà e sua maestà in